Grazie a tutti dai Lu dai Lu non lo so magari viene più alto oh 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 bravo Tommy vai Gabriele vai 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 no ancora 50 50 centesimi? no voglio lo mandare per lui a me non lo so dentro non lo so perché costa 2 euro 50 può essere fatto così comunque ti apposta quando arrivi? sì per fidar non c'è dentro e a partizione torno 2 euro per il nuovo ragazzo dai dai presa dai vai dai 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 vai 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 dai vai occhio Teo oddio scappa scappa presa vai vai presa teo non lo so non lo so non lo so vai 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 scappa occhio 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 non parlo no tanta roba teo presa bravo 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 vai 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 bravo 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 vai vai scappa bravo scappa Matteo scappa scappa and the wheel and the wheel and the wheel occhio Teo resa vai 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 resa Teo